Ciao a tutti, eccoci giunti alla diciestesima lezione sulla fisica quantistica e il tema è interessante, secondo me sono le interpretazioni della fisica quantistica cioè le visioni di mondo che porta la fisica quantistica prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione e seminario del vivo abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica e adesso veniamo dunque al tema, veniamo dunque al tema e il tema è quello legato diciamo alla il tema è quello legato all'interpretazione della fisica quantistica che è sempre un fenomeno molto interessante quello dell'interpretazione della fisica quantistica allora qual è questa interpretazione diciamo vi sono diverse interpretazioni tra queste ritroviamo l'interpretazione di De Broly Schrödinger che afferma, intanto che cosa va interpretata? beh va interpretata la funzione d'onda di Schrödinger cioè questo universo, questo mondo è fatto di energie, è fatto di materia che cos'è un elettrone, è energia, è materia, è un'onda quindi è un qualcosa che si propaga ma che sta dappertutto oppure è una particella la cui probabilità di trovarla viene spiegata dalla funzione d'onda appunto di Schrödinger che in questo caso diventerebbe una funzione di probabilità perché è interessante capire se questa funzione d'onda è di probabilità quindi è una funzione teorica o una funzione reale allora vi sono diverse interpretazioni la prima è quella di De Broly Schrödinger secondo i quali l'universo è energia è energia che collassa diciamo in un pacchetto d'onda quindi l'onda, la materia, il mondo è fatto di energia che si comporta da materia in alcune circostanze quando viene osservato facendo collassare la funzione d'onda e questo, questa interpretazione diciamo ha un, ha alcuni limiti come avviene questo collasso? e poi dovrebbe avvenire istantaneamente perché appena lo osservo zack, deve subito collassare questa è un'interpretazione però ha dei limiti ad esempio legati alla velocità della luce in fisica tutto quello che avviene istantaneamente non viene considerato valido poi vi è un'altra interpretazione quella di Max Born un altro fisico il quale dà l'interpretazione opposta cioè che l'elettrone è fatto di materia quindi l'universo è fatto di materia soltanto che noi non siamo in grado di trovare la posizione dell'elettrone per cui dobbiamo interpretare la posizione attraverso una funzione d'onda che diventa una funzione di probabilità teorica in questo caso anche questa però non dà tutte le spiegazioni necessarie perché noi sappiamo che invece in alcune circostanze l'elettrone si comporta proprio come un'onda con la sovrapposizione cioè il fatto che si comporti come un'onda negli esperimenti della fisica è un fatto reale c'è un'altra interpretazione che è l'interpretazione di Copenhagen la scuola di Copenhagen è una scuola molto famosa uno dei centri più sviluppati della fisica perché finanziati da una birra danese che ha finanziato proprio la creazione di questo studio di questo centro di fisica che è stato per anni uno dei centri più sviluppati diretto da Niels Bohr e qua l'interpretazione diciamo di Copenhagen quindi di Bohr e di Heisenberg è quella che l'universo in uno stato micro è indefinito sta in uno stato indefinito cioè è sia onda che particella e poi a seconda del tipo di misurazione si manifesterà in un modo piuttosto che in un altro e queste tre sono le tre interpretazioni classiche però ve ne sono molte altre di interpretazioni ad esempio interessante è quella di Hugh Everett che nel 1957 diede l'interpretazione dei molti mondi cioè considera una funzione d'onda reale e ne nega il collasso cioè il collasso è semplicemente diciamo la percezione che noi abbiamo in questo mondo ecco qua la spiegazione di questo gatto di Schrödinger trova come dicevo nel video precedente trova una spiegazione nel fatto che il gatto è sia vivo che è morto cioè se ci sono due possibilità si manifesteranno entrambe in due universi paralleli quindi ci sarà un universo dove il gatto è vivo e un universo dove il gatto è morto in questo modo arriviamo a definire infiniti universi di cui noi ne stiamo sperimentando uno poi vi sono anche molte altre interpretazioni diciamo una interpretazione interessante è l'interpretazione diciamo di di Bohm David Bohm che sarebbe l'interpretazione di De Broly-Bohm questa interpretazione diciamo fu proposta originalmente da Louis De Broly e poi migliorata da David Bohm che fa parte diciamo dell'interpretazione a variabili nascoste secondo questa interpretazione diciamo ad ogni particella è associata un'onda pilota che guida il moto della particella questa onda pilota è un'onda reale e permea tutto l'universo costituendo nell'ordine non manifesto quindi implicato non manifesto che Bohm considera una struttura ologrammica cioè Bohm da un'interpretazione di un universo come ologramma di cui noi vedremo soltanto l'ordine esplicato diciamo cioè quello che il nostro cervello elabora ma non ma perdiamo diciamo la matrice fondamentalmente poiché Bohm diciamo appunto riteneva che l'universo fosse un sistema dinamico utilizzò il termine o lo movimento per descrivere la natura del cosmo spiegò anche l'entanglement Bohm affermando che due particelle sono come una cosa sola a un livello di realtà più profondo e questo c'è come se due telecamere diciamo inquadrassero ad esempio fa l'esempio di uno stesso da due punti di vista diversi lo stesso pesce in un acquario il pesce nell'acquario è rappresentato dal diciamo dalla matrice dell'ologramma fondamentalmente che viene ripresa da due telecamere diverse quindi genera due ologrammi diversi fondamentalmente ma la matrice è sempre la stessa per cui ogni spostamento del pesce diciamo nella sua versione originaria si manifesta anche nelle nelle due televisioni diciamo così nelle due percezioni del pesce in due posti diversi quindi sembra che ovviamente variando il pesce che dove viene ripreso istantaneamente variano entrambe quindi sembra che esista una correlazione perché noi percepiamo le due rappresentazioni del pesce ma ci sfugge la rappresentazione del pesce originario un po' come dire una moneta testa e croce viene ripresa da due punti di vista diversi e ogni volta che noi giriamo la moneta da una parte all'altra cambierà anche dall'altra parte noi sfugge la moneta intera diciamo possiamo vederne solo uno o l'altro quindi le interpretiamo come due oggetti diversi come due cose diverse ma che a livello più profondo sono esattamente la stessa cosa ecco questa è un'altra interpretazione che viene data diciamo della fisica quantistica poi ve ne sono anche altre diciamo però queste diciamo sono quelle più significative bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare abbonando ti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento abbonamento base con lezioni mirate abbonamento top con lezioni mirate video registrazioni seminari dal vivo abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica ciao a tutti ciao a tutti